Musica Bentornati a Cronache Bestiali, il nostro spazio interamente dedicato al mondo degli animali, come sempre parleremo di alimentazione, di educazione, di salute ed andremo a conoscere un'amica a quattro zampe in cerca di famiglia. Bentornati allo spazio dedicato alla salute, come sempre in compagnia del dottor Martini, è arrivata la bella stagione, è arrivato il tempo delle vacanze estive, ecco cosa fare se dovessimo decidere di lasciare il nostro cane e il nostro gatto in una pensione? Sì, dunque il consiglio che do sempre io, il primo consiglio che do è andare nella pensione e rendersi conto di che tipo di ambiente è, parlare con i gestori della pensione, farsi mostrare i box dove vengono ospitati i cani o i gatti e quindi avere un primo approccio con l'ambiente portare anche l'animale, il cane, a familiarizzare con quest'ambiente. Poi esiste ovviamente anche il passaparola se eventualmente sentire altre persone che hanno portato l'animale lì, come si sono trovate. Questo ovviamente vale sia per il cane che per il gatto? Sì, per il gatto le pensioni che ospitano i gatti sono meno numerose di quelle che ospitano i cani, bisogna avere qualche accortezza in più quando si porta il gatto perché per il gatto il cambio di ambiente è sempre traumatizzante e quindi l'ideale sarebbe sempre trovare una sistemazione dentro la casa, quindi sentire se qualcuno può andare a dargli da mangiare o che. Se questo non è possibile, anche qui appunto bisogna verificare dove vengono tenuti i gatti, se hanno la possibilità di avere degli spazi dove poter dormire, dove poter giocare, se vengono ospitati in gruppi oppure da soli perché alcuni animali che per esempio possono avere problemi di salute sarebbe bene tenerli da soli oppure i cuccioli sarebbe bene tenerli da soli e quindi ecco un pochino d'accortezza in più ci vuole per i gatti. Come si sceglie una pensione? Andando a visitarla, parlando con i gestori, uno si può rendere conto se il modo e le dinamiche con cui viene ospitato può essere adatto al proprio animale, per esempio se uno ha dei cani che non vanno d'accordo con altri cani, bisognerebbe cercare le pensioni ovviamente che tengono i cani da soli e magari non in box dove i cani sono molto vicini o si possono abbagliare dalla rete oppure sgambare in aree comuni. Se invece uno ha un cane che è particolarmente socievole, va d'accordo con gli altri cani, sentire se è possibile in alcuni momenti avere la possibilità perlomeno che il cane stia insieme ad altri, quindi ogni pensione va un pochino ritagliata sull'esigenza dell'animale, anche esigenze fisiche, per esempio animali anziani hanno bisogno di pensioni che hanno box dove per esempio le pedane non sono troppo alte, box caldi d'inverno, non umidi, animali più giovani hanno bisogno di sgambare di più, quindi magari pensioni dove c'è più spazio verso l'esterno, la possibilità di uscire spazi allargati, quindi non c'è una pensione che va bene per tutto. Va ritagliata in base alle esigenze del nostro animale, per questo è bene andare a vedere prima. Sicuramente potrebbe essere uno stress sia per il cane che per il gatto, quindi come ci si prepara questo? Sì, sicuramente sia che sia un gatto che sia che sia un cane lasciare una pensione non è mai una cosa da prendere sotto gamba, perché nessun animale è contento di stare lontano dal proprietario e soprattutto stare in un ambiente diverso. Quello che si può fare per i cani, come dicevo prima, è farli familiarizzare il più possibile sia con gli ambienti sia con le persone che sono nella pensione, quindi non sarebbe male fare più incontri dove uno porta l'animale, fargli vedere il box, fargli vedere le persone, fargli capire anche a chi lavora lì, che tipo di carattere al cane, come va gestito, eccetera. Per il gatto questo ovviamente non si può fare, esistono dei presidi farmacologici o parafarmacologici che aiutano il gatto ad ambientarsi in ambienti nuovi a base di feromoni, che sono le sostanze che il gatto naturalmente lascia nell'ambiente, per esempio quando si struscia, e quindi potrebbe valer la pena mettere queste sostanze, che sono dei diffusori che poi liberano le sostanze nell'ambiente, nei nuovi box della pensione, per esempio. Oppure far in modo che il gatto si abbiglia a certi tipi di odori che sono presenti nella pensione, magari portando asciugamani in casa e poi portando gli asciugamani e le copertine dove il gatto dorme nella pensione. Bentornati allo spazio dedicato alla salute dei nostri amici a quattro zampe, siamo in accompagnato del dottor Albanese del centro dermatologico veterinario, oggi per parlare di antibiotico resistenza, ecco un fenomeno che sta prendendo sempre più campo anche nella medicina umana, ma qual è la situazione nel campo veterinario? Così come in medicina umana, questa è una patologia emergente, sono già un po' di anni in cui si osservano animali che hanno sviluppato dell'antibiotico resistenza. Questo è ricato al fatto che negli ultimi 20 anni c'è stato un abuso nell'utilizzo degli antibiotici, sia per le malattie dermatologiche, ma anche per le malattie di altri organi apparati. Ci sono però delle terapie alternative? Negli ultimi anni si sta facendo proprio una sorta di educazione, il mondo della veterinaria sta cercando di educare al non utilizzo degli antibiotici, o almeno all'utilizzo quando è strettamente necessario, perché ci sono tantissime infezioni batteriche, piodermiti superficiali di superficie, che possono essere gestiti con terapie topiche e quindi sciampi, piuttosto che prodotti per uso locale, limitando gli antibiotici sistemici solamente nei casi strettamente necessari. Ma questi batteri l'animale dove li trova? Nell'ambiente circostante? No, no, sono batteri che vivono sulla pelle dell'animale, sono dei normali residenti, che a un certo punto si sviluppano, sovracrescono e danno infezione. La causa dell'infezione è una causa di solito sottostante, che può essere una malattia allergica, una malattia ormonale, una qualsiasi malattia che va a alterare l'equilibrio tra l'animale e il microorganismo, quindi non li contrae dall'ambiente, non è una malattia che ha preso l'ambiente. Ed è per questo molto importante, oltre a gestire l'infezione, andare a ricercare la causa sottostante che ha determinato la sovracrescita e lo sviluppo dell'infezione batterica, quindi della piodermite. E' alle porte di Arezzo, in località Santa Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osini verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti. Perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Bentornati all'appuntamento con l'addestramento, come sempre in compagnia di Simone Grotti. Oggi scopriamo un po' qual è la tua strumentazione. Ecco, di cosa si tratta? Allora, questi sono più o meno tutti gli strumenti che io utilizzo. Si va dal mezzaglio normale, in tela, moschettone grande perché deve essere resistente nel caso di strattoni, moschettone troppo piccolo, dipende dal cane che avete. Però su un cane di 30 kg, una pitbull come lei, se dovesse dare un colpo forte rischiate che si rompa. Quindi un moschettone adeguato, di dimensioni adeguate a quello che è il peso del cane. Oppure la pettorina, io queste le utilizzo in addestramento, tendenzialmente per fare gli attacchi, comunque qualsiasi tipo di addestramento in cui mi serve che il cane vada in trazione e mi resta libera la respirazione. Già una pettorina ad H norvegese, c'ha l'anello, è molto simile, c'ha l'anello centrale e dietro i rami, soltanto che la pressione è scaricata in una minor quantità di pelle. Con questa qui invece si scarica in più superficie, quindi meno impatto per il cane. Ed è anche più facile tenerlo. Cioè senti meno forza anche tu che lo stai trattenendo. E per il cane è più soffice. In pelle perché fa meno attrito, fa meno impatto, queste se scorrono veloci bruciano. La pelle invece è più difficile che ti faccia una situazione del genere. Dopodiché con l'aria fisso, così o anche in cuoio. Quali sono le differenze tra il collare fisso e la pettorina? Quali sono? Allora, la pettorina nasce come strumento per evitare che il cane soffochi in fase di tiro. Quindi serve per mantenere il cane in trazione e farlo respirare adeguatamente. A livello comunicativo, il cane. Se noi guardiamo dei cani che giocano fra di loro, dal cucciolo, se chi ha avuto cucciolate in casa lo può capire, li vedi che si mordono tanto al collo, si mordono, si mettono al collo da sopra, da sotto, comunque sia tanta della comunicazione che non ne avviene qui. Non possiamo equiparare il collo loro al collo nostro. Per noi è una delle parti più fragili, per loro è una delle parti più resistenti. Consideriamo che sono predatori. Attraverso la muscolatura del collo fermano prede più grandi di loro e le trattengono. Pitbull, Dogo, nascono come cani da contatto, da caccia. Quindi affrontano fisicamente poma, cinghiale e quant'altro. E di conseguenza la muscolatura è molto forte qui. Poi c'è un fattore di comunicazione che è la cosa che non ci interessa di più. Attraverso il collare io riesco ad avere una certa comunicazione. Però se io posso anche comunicare male. Per questo va visto, se col collare uno non sa comunicarci può fare dei danni. Fisici fino a un certo punto devi usarlo male male. Però di comunicazione sì. Quelli effettivamente li possono fare. Nel momento in cui hai imparato a gestirlo, cambi. Lo strumento diventa questo perché tanto un cane che sa camminare non gli può fare nessun danno. Perché se io sto così, quale danno mi fa a me questo strumento? Nessuno. E' un cane che sa camminare sta così. Se poi io gli faccio questo, io sto dicendo ehi, che fai? Non è che perché l'intensità poi è questa. Quindi lo faccio su di me non c'è nessun problema. Il cane non è che gli sto facendo male. Come si possa credere, capito? E' solo un fattore di comunicazione. E la loro passa attraverso il collo. Ce lo dice vederli di giocare. Quando si mordono sulla schiena stanno combattendo. E se ci fate caso si nervosiscono tanto. E quindi la pettorina che volendo tira qui, che cosa fa? Magari fa nervosire il cane a volte. Capito? O quello stare in continua trazione, comunque sia, non è educativo. E questo è il motivo per cui si preferisce realizzare il collare. Poi tra i collari c'è il fisso, in questo modo qui, oppure un collare a scorrimento. Nel collare a scorrimento ci sono di vari tipi, dimensioni, variano un po' in base alla scorrevolenza. Questo scorre meglio. L'importante del collare è che si riapra bene. E' importante è la velocità di riapertura. Come vedete, questo ha una posizione, si mette in un certo modo. La tipologia di collare richiede anche un lavoro dietro, ovviamente. Ovviamente. Io lo sconsiglio al principiante. Nessuno ti ha mai spiegato come deve lavorare. I commercianti non lo sanno. Come deve lavorare il collare? E' inutile che io lo metto. Perché posso andare, appunto, strozzo il cane per cosa? Per niente. Viene chiamato collare a strozzo, ma non serve per quello. Io lo chiamerei più scorrimento di sicurezza. Perché con questo collare nessun cane si scappa. Perché se prova a scappare, si chiude e si inibisce direttamente la fuga, le paure e quant'altro. ho capito. Però va fatto lavorare. Questo, a differenza di quest'altro, scorre leggermente peggio, però ha il vantaggio che si può chiudere e mettere fisso. Quindi abbiamo due tipologie di lavoro. Come fisso o come colso. E può essere tenuto su sempre. Perché avendo i buchi larghi, lo chiamiamo anche salvapelo. Dopodiché c'è il guinzaglione che va utilizzato in un certo modo però ti apre un mondo intero e un addestratore lo deve saper usare, insegnare a utilizzarlo. E lì poi inizia la vera comunicazione sul cane a distanza. E questo è un cordone ombelicale come questo. E se io non sappiamo dare la giusta comunicazione, il giusto nutrimento al cane, alla testa del cane, quel che usi, usi. Non va bene niente. Poi c'è il famoso flexi che uso solo in situazioni particolari. Quando il cane mi deve tornare e non ho la manualità per gestire questo. Dopo si passa a questo. Perché questo mantiene il cane sempre in tiro. Perché ha una molla. Quindi il cane sempre in tiro e sa direzionarsi bene per un ritorno. Però dopo quel ritorno va eliminato. Quando il padrone impara a gestire il guinzaglione si elimina. Cioè l'ultimo strumento cosa è? L'ultimo strumento è il clicker. Il clicker training si sente tanto parlare. È uno strumento che dà le molteplici facce. Diciamo. Serve per costruire un'associazione, un condizionamento classico. Nel senso, tendenzialmente si utilizza clicco, cibo, clicco, cibo. O comunque premio, qualcosa di positivo. Quindi il cane sa che al suono di questo corrisponde che ha fatto bene. Il problema qual è? L'abuso, come ogni strumento. Se io inizio a utilizzarlo troppo e non lo vado a eliminare, quando il cane sa quel comportamento, sa farlo, il cane mi si stressa. Perché io posso utilizzarlo per fare quello, ma anche per mandarlo in stress, chiedere un passo in più sulla lavorazione. Quindi il cane va in aspettativa, se aspetta che arrivi il suono, non arriva, fa qualcosa in più, arriva. E quindi è questa la vera natura del clicker training. Vai a stimolare il cane su una soglia di stress abbastanza bassa, se utilizzato bene, può diventare altissima se utilizzato male e il cane proprio lo perdi completamente. Quindi tendenzialmente si associa in positivo. Clicco, cibo, clicco, cibo, clicco, cibo. Il cane lo aiuta a capire, a fissare bene il punto di rinforzo. Quindi che quel comportamento lì è giusto. Non un altro, non un altro. E ti aiuta a velocizzarlo e a dargli precisione. Il suono è sempre uguale, perché è una macchina, quindi produce sempre il stesso suono. E quindi stabilizza anche il cane. Come ogni strumento va utilizzato in un certo modo, in una certa misura. Queste sono la principale strumentazione per lavorare con tutti i cani. Dopodiché si può scendere nel dettaglio a seconda delle situazioni ben specifiche. Però dipende. Dipende i soggetti e la lavorazione bisogna andare a fare. Bentornati allo spazio dedicato all'alimentazione. Oggi parliamo di gatto e dei vari tipi di alimentazione che possiamo trovare. Sì, buonasera. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione del gatto, scientificamente parliamo di un'alimentazione soprattutto a livello di carne, quindi umida e secca. Anche se oggi con i prodotti di ultima generazione sull'alimentazione secca possiamo tranquillamente sopperire anche la carne. Per quanto riguarda l'alimentazione, tendenzialmente il gatto non ha particolari esigenze. Diciamo, sfatiamo il mito del pesce e del gatto. Quelle sono cose un po' che riguardano cartoni animati o niente. Il gatto è un carnevolo e quindi deve mangiare carne. Ci sono alimenti con il pesce solo a livello organoelettrico. Tutti gli alimenti che contengono solo ed esclusivamente pesce hanno, però purtroppo noi lo consigliamo sempre meno, perché il gatto tendenzialmente deve mangiare prodotti con alti contenuti proteici. Il pesce purtroppo non ha grande proteine, quindi per avere certi tipi di apporti proteici nel pesce avremmo bisogno di prodotti con altissime concentrazioni di pesce e risulterebbero avere dei costi esagerati. Comunque, detto questo, principalmente gli alimenti per gatti devono avere alte proteine e alte concentrazioni di carne. Una delle migliori proteine che il gatto può assimilare è il pollo. Infatti, tendenzialmente, sono quasi tutto a base di pollo. Detto questo, poi passiamo alle diete veterinarie. Per diete veterinarie intendiamo prodotti curativi, prodotti che tendenzialmente vengono prescritti dal veterinario in caso di patologie. Quindi usiamo gli urinari quando abbiamo renella o problemi a livello di bile. prodotti gastrointestinal per quanto riguarda l'apparato dell'intestino, dello stomaco, quando abbiamo particolari sensibilità, specialmente nei gatti di razza, persiani, main cone, insomma questi un po' di grossa taglia con poco movimento. Per arrivare appunto agli obesiti, agli obesiti dove abbiamo problemi di peso, dati o dalla cattiva alimentazione o come spesso purtroppo accade nel 50% quando purtroppo sterilizziamo il gatto. Ecco, anche infatti per le altre tipologie un grosso discrimine è proprio la sterilizzazione. Sì, purtroppo sì. La sterilizzazione nel gatto influisce molto ed è spesso causa anche un po' di problemi. Detto questo, ecco, sia nel randagismo sia che è, purtroppo la sterilizzazione, specialmente delle femmine, è necessaria. Però appunto la sterilizzazione spesso influisce, spesso va a toccare proprio il pancreas. Ecco, quindi quando sterilizziamo specialmente le femmine, purtroppo il pancreas non fa più il proprio dovere e quindi c'è o una ritenzione idrica o proprio un'assimilazione raddoppiata del cibo. Ecco che qui intervengono appunto gli obesiti, che sono dei prodotti proprio studiati, quindi vengono deproteizzati, i grassi nella stessa proteina animale vengono ridotti e soprattutto spesso alcune aziende usano anche la spirulina, che è un'alga che è in grado appunto di far sciogliere molto più velocemente la proteina animale. Qui parliamo del secco, ma le stesse differenziazioni le troviamo anche nell'umido. Assolutamente sì, anche per l'umido vale lo stesso concetto. Su quello che riguarda l'alimentazione umida normale, non curativa, abbiamo sempre tutte le solite proteine, anzi oggi abbiamo molto anche l'aggiunta nella carne di mirtilli, di frutta, della papaya, che aiutano molto lo svolgimento della digestione. Per quanto riguarda poi quello che è la dieta veterinaria e il curativo, il concetto rimane né più né meno lo stesso di quello del secco, con le stesse proprietà, con la spirulina e tutto, proprio con le stesse identiche proprietà che è la dieta veterinaria secca. E' alle porte di Arezzo, in località Sant'Anastasio, che Nikos Dog Village alleva con amore e professionalità splendidi bulldog francesi con affisso Bortolo Ringhiosi e con la collaborazione di Professional Handling, effetto servizio di preparazione per la conduzione dei cani negli show. Nikos Dog Village è anche pensione per il tuo amico a quattro zampe che non può seguirti nei tuoi spostamenti di lavoro o di svago, casette in legne con veranda e giardino per lo sgambamento. Nikos Dog Village è un'osili verde nella campagna retina, ideale per l'allevamento e la pensione. Etruria Pet Food, in via Carlo Pisacane 65, ad Arezzo. L'ingrosso dettaglio che dispone di una vastissima gamma di alimenti per animali di compagnia, con marche che non trovi da altre parti, perché Etruria Pet Food, per consigliarti l'alimentazione appropriata, unisce la professionalità e la competenza di chi opera nel settore da oltre 20 anni. Etruria Pet Food, vasta gamma di accessori, integratori, antiparassitari e quanto altro occorre per la salute del tuo amico a quattro o due zampe. Etruria Pet Food, ad Arezzo, in via Carlo Pisacane 65. Vuoi migliorare il tuo rapporto con l'amico a quattro zampe? Simone Grotti, Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Educare ed insegnare al cane come comportarsi correttamente con te e viceversa. Addestrarla ad avere un rapporto non solo di amicizia e confidenza. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Un educatore esperto al c-sport ed un addestratore che nella sua professione mette esperienza e passione. Simone Grotti, a Pieve Amaiano, Arezzo, 338-500-7197. Torniamo a parlare adesso ancora una volta di acquisto consapevole del nostro amico a quattro zampe. Cosa sta succedendo in questo mercato e come sta cambiando? È un mercato sempre più difficile, sempre meno regolato e sta succedendo veramente di tutto. Invito tutti a informarsi sull'eventuale acquisto di un cane di razza, di come appunto deve essere quel cane, sia sul piano morfologico e quali controlli dobbiamo fare ai genitori perché sia un accoppiamento fatto con criterio e coscienza. Cosa sta succedendo invece? Invece sta succedendo che i pseudo allevatori o cagnari che dir si voglia stanno addirittura esplorando nuove frontiere facendo accoppiamenti fra cani di razze diverse con la speranza di chissà tirar fuori un cane particolare per venderlo come una rarità assoluta oppure stanno appunto sempre accoppiando cani di razze diverse senza alcun criterio fra altre cose per al fine di tirar fuori, di riuscire a produrre, usando questo termine proprio sui cani ma così è, produrre dei cani con dei colori strani. Per colori strani intendo colori fuori standard, lo standard di razza di cui abbiamo già parlato ci dice anche come devono essere i mantelli della razza che stiamo valutando ma spessissimo troviamo questi cani con dei mantelli diversi che basandosi sull'ignoranza di tante persone vengono venduti, vengono proposti come cani di razza particolari quasi unici e venduti anche a cifre molto molto alti la realtà invece è tutta altra, non è un cane di razza, non avrà neanche sicuramente il pedigree è un cane molto probabilmente che può portarsi dietro notevoli problemi faccio un esempio sul buddho francese, il blu si porta dietro dei problemi di alopecia, sordità e problemi oculari il blu appunto è un colore fuori standard, non è proprio anche dire il buddho francese blu è già di per sé un errore e quindi state attenti, studiatevi prima, capite prima come è il cane della razza che state valutando per non incorrere appunto in certi personaggi dubbi poco etici sicuramente ecco più volte abbiamo detto insomma sono tanti cani al canile che cercano una famiglia dall'altro lato dovrebbe essere una tutela in più, una garanzia in più, un allevatore serio i cani si prendono o da un allevatore serio iscritto che firma codici etici per cui può essere buttato fuori se fa delle cose fuori dall'etica appunto deve essere iscritto all'ENCI in Italia, l'ente nazionale cinofilia italiana il cane di razza si compra da certi allevatori che comunque devono anche pure garantire che hanno fatto un'accoppiata dei genitori con criterio oppure si compra, non si compra, si sceglie di prendere un cane in canile e c'è un altro tipo di investimento che non è in denaro in quel caso lì ma è un investimento di tempo, il cane in canile si prende perdendo, no non è il termine giusto ma perdere il tempo vuol dire andare a conoscerlo in canile più volte vedere effettivamente che quel cane è il cane giusto per noi, per la nostra situazione per la nostra famiglia è una scelta assolutamente ottima non ci scordiamo assolutamente, non escludiamo di prendere un cane adulto chi lo ha fatto è rimasto sempre assolutamente soddisfatto è un'esperienza meravigliosa vedere il cane adulto che seppur magari con qualche limite giorno per giorno cambia e ti dà la fiducia che riusciamo noi umani poi a guadagnare Ci troviamo nuovamente al canile comunale gestito dall'EMPA le state si avvicinano e purtroppo si avvicinano anche gli abbandoni cosa fare nel caso ci dovessimo trovare di fronte a un cane abbandonato? Allora, la cosa più importante è mettere il cane in sicurezza quindi se uno può riuscire a prenderlo, fermarlo, se ha una corda, un guinzaglio chiuderlo da qualche parte. Poi ci può chiamare, noi abbiamo un servizio reperibile 24 ore su 24 basta chiamare lo 0575 2551 che è il centralino dell'ospedale e farsi passare l'operatore per le catture che verrà e prenderà il cane come prima cosa controllerà se il cane ha il microchip, se ha il microchip verrà contattato il proprietario se purtroppo non avesse il microchip il cane andrà nel canile sanitario dell'ASL e aspetteremo se qualcuno si faccia vivo e se no il cane entrerà qui in canile Purtroppo ancora ad oggi ci sono degli abbandoni? Sì, soprattutto nel periodo estivo, ora le persone iniziano ad andare in vacanza il cane inizia a essere un peso, le pensioni dove lasciare il cane costano troppo e quindi sì, capita Ovviamente come tutte le stati l'appello è non abbandonare insomma il tuo amico Quattro Zam Assolutamente, di portarselo con sé perché comunque ci sono sempre più strutture che accettano gli animali, sia le spiagge, sia i hotel, gli agriturismi quindi si può fare una vacanza tutti insieme Anche per oggi è tutto, l'appuntamento come sempre alla prossima puntata Ciao! 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 Ciao!